Pronto? Non sento niente! Wow, che caldo, sembra proprio di stare a Rio de Janeiro. Oh, ma Dante, dove cazzo sei? Ti abbiamo lasciato svenuto in brazzo a Lucifero e ora? Eh, raga, io sono qui al Purgatorio, in montagna. C'è una connessione da Dio e un internet della Madonna, c'è la fibra. Ma scusa, ma ci lasci qui a bruciare così? Maledetto! Ma che caldo è il tuo bianco? Io sono io, questo bianco! Muuu, fai cagare! Ma che caldo è il tuo bianco? 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 Grazie a tutti.